IL LIBRO DI SOFONIA Questo è il messaggio che il Signore rivolge a Sofonia quando Giosia, figlio di Ammon, era re di Giuda. Sofonia era figlio di Cusci e nipote di Godolia, figlio di Amaria. Amaria era figlio di Ezechia. Il Signore annunzia Sto per distruggere sulla faccia della terra ogni essere vivente. Annienterò gli uomini e gli animali, gli uccelli e i pesci, gli idoli e i loro adoratori. Farò sparire l'uomo dalla faccia della terra. Io agirò contro la gente di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Farò sparire da questo luogo quel che resta del culto di Baal, anche il ricordo dei sacerdoti che lo servivano. Sterminerò quelli che salgono sui tetti per adorare le stelle, quelli che mi rendono culto con giuramenti di fedeltà a me e poi giurano in nome del Dio Milcom. Distruggerò chi si allontana da me, il Signore, chi non si rivolge più a me e non mi chiede consiglio. Fate silenzio davanti a Dio, il Signore. Il giorno della sua collera è vicino. Il Signore si è preparato come per un sacrificio. Ha già purificato i Suoi invitati. Il Signore dichiara. Nel giorno del sacrificio punirò i capi, i figli del re e chi segue costumi stranieri. Punirò tutti quelli che entrano nel tempio saltando la soglia come gli idolatri e quelli che riempiono la casa del loro padrone con ricchezze, frutto di violenza e di frode. In quel giorno a Gerusalemme si sentiranno grida d'aiuto alla porta dei pesci, urla dal quartiere nuovo, un grande fragore dalle colline. Urlate abitanti della città bassa. Tutti i commercianti saranno eliminati e i trafficanti saranno annientati. In quel giorno prenderò una lampada e cercherò in tutti gli angoli della città quegli uomini che si sentono al sicuro. Essi pensano tra sé, il Signore non può farci nulla, né in bene né in male, ma io li punirò. Le loro ricchezze saranno saccheggiate, le loro case distrutte. Hanno costruito case, ma non le abiteranno. Hanno piantato vigne, ma non ne berranno il vino. Il gran giorno della collera del Signore sta per arrivare. È vicino, è imminente. Ascoltate il fragore del giorno del Signore. Anche l'uomo forte griderà di paura. Sarà un giorno di collera, un giorno di grande angoscia, un giorno di completa distruzione, un giorno di tenebre, di buio, un giorno nero e nuvoloso. In quel giorno suonerà la tromba. Si sentiranno grida di guerra contro le città fortificate e le loro torri. Il Signore dichiara. Colmerò di angoscia gli uomini, tanto da farli camminare come ciechi, perché hanno peccato contro di me. Il loro sangue sarà sparso per terra come polvere, e i loro cadaveri come escrementi. Essi non potranno salvarsi con l'argento e l'oro, quando il Signore sfogherà la sua collera. Con la sua ira ardente brucerà tutta la terra e ne sterminerà all'improvviso gli abitanti. Radunatevi, gente spudorata. Riflettete prima di essere cacciati come paglia che si disperde in un giorno. Prima che la collera ardente del Signore piombi su di voi. Prima che arrivi quel giorno, quando il Signore sfogherà il suo furore. Invece, voi tutti umili del paese, che ubbidite ai comandamenti del Signore, rivolgetevi a Lui. Cercate di fare quel che è giusto e di essere semplici davanti a Dio. Forse sarete risparmiati quando il Signore sfogherà il suo furore. La città di Gaza sarà abbandonata. Ascalon sarà distrutta. In pieno giorno gli abitanti di Asdod saranno deportati. Quelli di Akaron saranno sradicati dalle loro città. Guai a voi, gente venuta da Creta, che vivete sulla costa del mare. Il Signore pronuncia questa sentenza contro di voi. Canaan, paese dei Filistei, io ti distruggerò, sterminerò i tuoi abitanti. Il tuo territorio lungo il mare diventerà un pascolo con recinti per il greggio, un luogo dove passano i pastori. I sopravvissuti del popolo di Giuda occuperanno il territorio, vi faranno pascolare le loro greggi e alla sera riposeranno nelle case di Ascalon. Infatti il Signore, il loro Dio, sarà con loro e cambierà la loro sorte. Il Signore dice, ho sentito i Moabiti e gli Ammoniti vantarsi del loro territorio, insultare e disprezzare il mio popolo. Ma io, il Dio vivente, Signore dell'universo e Dio di Israele, giuro che Moab e Ammon saranno distrutte come Sodoma e Gomorra. Diventeranno terre desolate per sempre. Vi saranno solo piante spinose e miniere di sale. I sopravvissuti del mio popolo saccheggeranno Moab e Ammon e se ne impadroniranno. Questa è la punizione per la loro arroganza. Hanno insultato il popolo del Signore dell'universo trattandolo con superbia. Il Signore sarà terribile con loro e farà scomparire gli idoli della terra. Allora le nazioni, anche le più lontane, gli renderanno culto ognuno nella propria terra. Il Signore farà morire in guerra anche gli Etiopi. Il Signore agirà contro la regione al nord, distruggerà la Siria e ridurrà Ninive in rovina, in una terra desolata come il deserto. Vi riposeranno le greggi animali di ogni specie. Il Pellicano e il Riccio abiteranno tra le colonne in rovina. Dalle finestre delle case devastate fin dalle fondamenta con le travi di cedro messe a nudo, si sentiranno stridere gli uccelli. Così accadrà questa città presuntuosa che si crede d'essere al sicuro e superiore a ogni altra. Diventerà un luogo desolato, un rifugio di animali. Chiunque passerà vicino a lei, in segno di disprezzo, fischierà e farà gesti con le mani. Guai a Gerusalemme ribelle, corrotta e tiranna. Non ha ascoltato le parole del Signore. Ha ignorato i Suoi avvertimenti. Non ha più fiducia nel Signore. Non si rivolge più al Suo Dio. I Suoi capi sono come leoni ruggenti. I Suoi giudici come lupi che vanno a caccia di sera e non lasciano neanche un osso da rosicchiare per la mattina. I Suoi profeti sono irresponsabili, bugiardi. I Suoi sacerdoti profanano quel che è consacrato al Signore. Violano la legge. Ma il Signore è nella città per farvi regnare la giustizia e non il male. Immancabile come la luce del giorno, ogni mattina pronuncia i Suoi giudizi. Ma i malvagi continuano ad agire male e non se ne vergognano. Il Signore dichiara. Ho sterminato intere nazioni. Ho distrutto le torri delle loro fortezze. Ho saccheggiato le città. Ho reso deserte le loro strade. Non vi passa più nessuno e nessuno le abita più. Pensavo che alla fine Gerusalemme mi avrebbe rispettato tenendo conto dei miei avvertimenti. Non avrei più distrutto la città per punirla. Invece hanno commesso sempre di più azioni malvagie. Allora aspettatemi. Un giorno mi alzerò per accusarvi. Ho deciso di riunire le nazioni e i regni per riversare su di loro il fuoco della mia collera. Con la mia ira ardente brucerò tutta la terra. Lo dichiaro io, il Signore. In quel giorno trasformerò i popoli. Renderò pure le loro labbra. Così potranno rivolgere le loro preghiere a me, il Signore, e onorarmi tutti insieme. Quelli che avevo disperso mi renderanno culto e mi porteranno le loro offerte fin da oltre i lontani fiumi di Etiopia. In quel giorno, popolo mio, non dovrai più vergognarti delle tue ribellioni contro di me. Infatti eliminerò da te il superbo e l'arrogante. Smetterai di fare l'orgoglioso sulla mia montagna santa. Risparmierò in mezzo a te la gente umile e povera che cercherà rifugio in me. Il resto del popolo d'Israele non commetterà più ingiustizie, non dirà più menzogne, non parlerà più per ingannare. Potrà mangiare e riposare senza che nessuno lo spaventi. Grida di gioia, città di Sion, esulta di felicità, gente d'Israele, rallegrati con tutto il tuo cuore, Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna e ha disperso i tuoi nemici. Il Signore re d'Israele è con te. Non devi temere più nulla di male. Viene il momento quando si dirà a Gerusalemme, Non aver paura, città di Sion, non ti scoraggiare. Il Signore tuo Dio è con te, è forte e ti salva. Esulta di gioia per te nel suo amore. Ti dà nuova vita. Egli si rallegra per te con canti di gioia, come nei giorni di festa. Il Signore dice «Io allontanerò da voi il male, la vergogna che pesa su di voi. Arriva il tempo quando io sterminerò i vostri oppressori. Guarirò i vostri feriti, ricondurrò a casa gli esiliati, darò loro gloria e fama su tutta la terra dove prima avevano avuto solo disprezzo. In quel tempo vi radunerò e vi guiderò. Voi vedrete che cambierò la vostra sorte. Vi darò gloria e fama fra tutti i popoli della terra. Lo dichiaro io, il Signore».